Lo sapevi che anche le persone che hai accanto possono farti ringiovanire oppure invecchiare? Ci sono persone che ci fanno sentire bene, che ci ricaricano, che ci danno energia e poi ci sono quelli che ce la tolgono, dei veri vampiri della nostra vitalità. Ora non dobbiamo per forza smettere di frequentare questi vampiri, anche perché spesso si tratta di persone che fanno parte della nostra cerchia ristretta. È importante però difenderci da alcuni loro atteggiamenti e mantenere la nostra vitalità. Quindi no alle persone negative, che si lamentano di continuo, che vedono sempre e ovunque solo problemi, che fanno sempre le stesse cose o che amano spettegolare. Sì invece a persone allegre, curiose, aperte al nuovo e autonome e quindi che non hanno bisogno della tua energia.